È il candidato sindaco della lista civica Giuliano Metropoli. Si tratta di Andrea D'Alterio che spiega i motivi della sua candidatura e i punti centrali del suo programma. Io ed un gruppo di amici abbiamo deciso di riappropriarci della nostra città. Siamo una metropoli, non siamo grandi per il numero di abitanti, ma lo siamo perché Giuliano ha ancora tantissime potenzialità nell'agricoltura, nell'industria, nel turismo, nella cultura, nello sport. Da subito una legge speciale per riqualificare da un punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico la nostra Giuliano Mare. Per l'agricoltura una certificazione di tutti i terreni perché noi siamo una terra felice, la parte inquinata è ridottissima e quindi con un distretto gastronomico nelle masserie che si presteranno a questo tipo di attività noi vogliamo rilanciare lo sviluppo dell'agricoltura e anche dell'industria della ristorazione. A chi poi lo accusa di aver scelto di candidarsi alla carica di sindaco solo per assicurarsi un posto in consiglio comunale risponde. Spesso nei grandi partiti non c'è una grande agibilità, io ritengo una sconfitta aver dovuto fare questa lista civica. Noi puntiamo anche ad avere due consiglieri comunali, il mio gruppo è a conoscenza che nel momento in cui scatto un solo consigliere a metà consigliatura io non ho difficoltà a dimettermi per occuparmi di nuovo del movimento, del partito come lo vogliamo definire.